Ma bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui per il primo Tony Tubbo vs Food Oggi ragazzi non mi sono regolato e ho comprato ragazzi 10 Gran Crispy McBacon, eccoli qua Ora voi penserete ma come Tony li mangi tutti? Si spera di no, perché nella challenge ho inserito FIFA Eccoci qua sul gioco ragazzi abbiamo 10 pacchetti zinco rari, quindi ho deciso che Apriamo questi 10 pacchetti, se non esce una lavagna mangerò un panino, potevo usare i panini da 1€ però ho pensato Dai Tony Tubbo, se è bello grande e grosso usa i panini grossi e quindi ho preso i Gran Crispy McBacon che mi piacciono pure Però certo al Q70 no, comunque se invece esce la lavagna ho due opzioni O scarto tutto il pacchetto e quindi il giocatore lavagna e quindi non mangio Oppure se voglio tenermi il giocatore che esce, mi devo mangiare un panino Metti che esce un Cristiano Ronaldo, zero costretto a mangiare un panino Quindi iniziamo subito con la challenge ragazzi, iniziamo ad aprire il primo pacchetto Se esce lavagna posso cancellare, altrimenti no Cosa uscirà? Vediamo un po', vediamo un po' Diciamo che vabbè il primo panino, ecco, primo pacchetto senza lavagna No vabbè ma dai ma questo mi tormenta però Ma non è possibile che esce proprio lui Batuzzai! Un saluto al gruppo Amaron Batuzzai che sono i miei fan che hanno fatto un gruppo su di me E Batuzzai, ciao belli! E allora ragazzi veniamo alla presentazione del panino, il Crispy McBacon Come è fatto questo panino? Ci sta, allora questo non è manco il Crispy McBacon normale È il gran Crispy McBacon, paura Allora ve lo apro Abbiamo due hamburger Si vede? Due hamburger, il cheese, il bacon e la salsa burger C'è un panino del genere, quanta ragazzi di calorie su? Sta scritto da qualche parte, no non ce lo scrivo, ne ho paura che non te lo compri Vabbè, ok, diciamo che è il primo Si mangia pure volentieri, dai Mmm Intanto qui è uscito il pacchetto Allora mangiare buoni bacon Il primo panino è il più buono, cioè proprio con la fame perché non ho mangiato niente quindi Primo panino è andato Sciocchezze per ogni dubbo ragazzi Allora ci siamo quindi, primo pacchetto è andato Cancelliamo e via Ho un'idea FIFA, se me ne fai un'altra non la bagna Ok ci iniziamo proprio male Cioè sono dieci pacchetti, ho calcolato che almeno, ma almeno sei devono essere lavagne Ti ho detto quattro panini, dai Quindi non mi deludere, fai lavagna Come on Come on Eh no Ma dai Tantadumbo ti fa 83 Vabbè Dai Il secondo panino si può mangiare tranquillamente ragazzi E quindi Vamos Col secondo panino Andato Individa quello che volete ma il Crispy Mac Bacon è troppo buono Mmm Buono però Secondo panino Andato Allora due panini Dai ci sta Non sto soffrendo Però Effettivamente Già mi sento Sto bene Non proprio Sto scoppiando Sto bene Terzo pacchetto Fa sta cazzo De lavagna Dai Dai Fa sta lavagna Forza Non lo raniene Manneccia Marina Manneccia Madonna C'è tre pacchetti Tre panini Frate Eghia Se non fare Dieci pacchetti Senza lavagna Io muoio Non ce la farò mai No La perdo la challenge Ragazzi Se la perdo Non lo so Pagherò penitenza E per ogni pacchetto Che non apro Scarterò Giocatore da 85 in su La butto lì Vai Non ce la faccio E' volato un pezzo Di bacon In bocca Sto iniziando a soffrire Sto pensando Che ho fatto Una cagata Con sta challenge A parte Perfino Che ne esce Ma la lavagna Oh mio dio Sette pacchetti Rimasti E' impossibile Così fra Parto subito Con la condanna Siccome non posso morire Devo finire Dieci pacchetti Ho messo Sta regola Che mi è venuta in mente Dopo Quindi me la concedete Perché se no muo E' proprio voi Che toni tubo Reste in vita Ecco Nel caso in cui Voglio saltare un panino Scarto l'icona E lo sapete Che ci tengo A legone Quindi Proprio Nel caso in cui Volessi saltarlo Però Confido Che adesso Siano la lavagna Ok Ma tu stai Inguagata Però Ma mi devi dare Una mano pure tu Però Ma dove stai facendo No toni Ce la fai Cazzo Stepney ha mangiato Quattro big mac E no Mi dei miei stepney Che cazzo Vai toni tubo Vai Forse perché Devo mangiare Troppo veloce Capito Troppi uno dietro l'altro Guardate questo panino Intanto Che cazzo Ha passato Ha fatto la curva Sto panino Si è sgommato Ok Eh però Stepney dopo Quattro big mac Stava morendo Io Sto morendo Tra poco Anche io Perché ce la faccio più Come diceva la nonna Quando si mangia Si combatte contro la morte Un problema È che io Sto uccidendo La morte Cazzo No Vabbè Il fatto Che quattro pacchetti Senza la lavagna Stupi Femmerta Come sta cadendo La tazza burger Ha già fa Ce l'ha già fa Oh mio dio Questo non è mangiare Con piacere Vi giuro C'è arrivato a quarto panino C'è un proprio stomaco Che sta sfondato Cioè voi calcolate Un bagno di questo Vale tre panini Da un euro Quindi ne ho mangiato I quattro È come se si mangia Dodici di quei panini Non mi sveglierò Domani mattina Cioè questa La faccio pure Ma non già la faccio Nata Dove calzo Lo metto Un altro panino Non mi tengo Lo stomaco Sento proprio Che sta arrivando Fino a qua C'è il stomaco Che sta a qua No Sta arrivando All'altro lato Ci sta spandendo Hai il senso Quinto pacchetti Senza la lavagna Stimmi Maronne Dico già Con sofferenza Ma ce l'abbiamo Fatta Quarto panino Andato Guarda Esci la lavagna Ti prego Che non ce la faccio Ti prego Esci la lavagna Assafamalon Tanto c'ho Cioè tu fai sempre Gli 83 di merda Fai sempre Gli 83 di merda Ma che fai L'87 Marse Ma se lo voglio tenere Devo mangiare Ok Se no Devo scartare Quanto costa Marsello No mamma mia C'è 40.000 credit Di costa LT Ciao Marsello Ciao No non ce la faccio A mangiare un altro panino Scarto Ok Vedete i credit Che salgono Scartato Quindi Tu Eccolo Ve lo faccio vedere Tu Domani in microonde Bella Un saluto Fai un saluto Ragazzi Ciao ragazzi Mangiate il Burger King Ok Fai un'altra lavagna Forse si è stato scostumato Fino a mo Fa un'altra lavagna Dai Ah Finalmente Fa pure Cristiano Ronaldo Con scarto Non me ne fotto po' Bella Farego Guardate anche i panini Che salgono e scendono Si 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 Farego Do più Le ragazze Ovviamente scarto Perché Non voglio mangiare ancora Ok Non c'è due Senza tre Fa la lavagna Sien da me Dai Dai Bello Rossi Finalmente Ma che cosa Si fa che Ti sono buoni Dicevo Courtois Ma tu mi rama Ma tu vedi Ma non me fai A stommare Però Courtois è buono Da tenere Ma come stai facendo Scarto Che cazzo fai Ad ab Che ti devo scartare Sennò Mi devo fare Come il vitelluzzo Per tenerti C'è la ropa Ma che a pascolare Invece C'è la sera Mannaggia Courtois Ma sapeva Ma guarda Però tra l'altro C'è un doppio Le Courtois Vediamo il valore Commerciale Di Courtois Quanto mi fa 48.000 crediti Di giocatore 48.000 crediti Ma RT Vuoi davvero Scartare tutti gli oggetti Si Lo faccio per voi Forse almeno Non mi tocca Scartare una Perché Se voglio saltare Un panino Devo scartare Un'icona Quindi Non c'è tre Senza quattro Punta tutto Sul lavagnacco Sul lavagnacco Dai Altra lavagna Altra lavagna Altra lavagna Altra lavagna Altra lavagna Si 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 è sciatato Una botta Si è sciatato Maronna Maronna Nel caso Nel caso Nel caso in cui voglio saltare Il pacchetto Perché io Forse Ma forse Ma se fai due lavagne Di fila Io sono contento Tutto strano Però va bene Vai Ti prego Ti prego Ti prego Lavagna 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 Cioè Oddio Da 83 In su Però 76 Va benissimo L'importante è che avertano La lavagna A noi quello ci interessava Quindi Bella In realtà poi c'era la lavagna Quindi se proprio volete avere dubbi Ai toni Ma l'if Non era la lavagna Eh Ma c'era la lavagna C'era l'83 Quindi Non mi tocca mangiare il panino Ma Mi tocca scartare l'if Che non mi dispiace Perché tanto Stiff 76 Tanto Se lo vendo A 10.000 Tanto lo vendo E quindi Boom Può essere che me la sono cavata Se ad esserci la lavagna Me la sono cavata Altrimenti Ultimo panino Ok L'icona non la scarto Ho deciso Ma 5 lavagne di fila Mi ho fatta Sta fatti Dai Fai la sesta E chiudiamolo qua Sto pacco Dai Dai Sei un buono Sporche Fa O mangio un panino O scarto l'icona Eh Cazzo Mi fottami Una volta scamba Una volta scamba Una volta more Ma questo panino Si è fatta la scarpetta Tutti qua Cioè Capisco questi panini Cazzo Lo fatti Le hanno Quando ho chiesti panini Ho detto Ah questo Io ci panino Lo lancio A frisbee Hanno usato Sti panini Il Burger King Lavora più meglio Sbam No perché Qualcuno pensa Che Sti video Sai C'è sponsorizzo Mc Donald Mario Mc Donald Sono puzzate Fam proprio Sti moragani In merda Eh Volevo dire Il bacon Un Ragazzi Hashtag Lo faccio Per tutti Con calma e tranquillità Esplodo Voglio Non ce la faccio Non ce la faccio Come sai che aspetto Che poi No Ti tengo pure Il triclice in alto Voi che non è saputo Ma ci fatti La ragazza Lo sanno Anche Il triclice in alto Tutto sta carne Stasera Muore Cioè Non la faccio Manca pubblicare Nel nostro video Poi l'acqua Cioè se lo stomaco È pieno Dove entra l'acqua Si infila Ti tengo 30 anni Che lo sta roba Un salagerisce Ma nec Ma perché Faccio sti video E merdi Cioè Io amo il cibo Sono una persona Golosa Però Mangiare Tutto sto bene E di no Non è golosità Ricordati dei tuoi allenamenti Alla sacra scuola Do Kuto Ristorante Quagliarella Sito in Monteforte Il Pino Ogni volta Che bacalamo Faccio Un magro Un malino Dai Dai E' poco E' poco Ma il mio corpo Non vuole niente Come ce la fa Devi voler Un corpo Proprio zero Che è proprio Il stomaco Ha detto Combati Ma che te la fa Don capro Esploda Marogno 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 Avrei mai creduto In vita mia Di dire questa frase Ma io almeno Sto lì Una giornata Sto digiuno Una giornata Ragazzi La traduco Perché poi Mi viene Napoletana Di dirla Quindi Poi almeno Sto digiuno Una giornata Sto scoppiando Tutte cose Sento proprio La pelle Che fuoriesce Dice Ma io Spazio Dalla tua pelle Il tuo esile corpo Esile Ma capirà Non riesci a mantenere Questo panino Cioè sono due hamburger A panino Quindi ho mangiato Dieci hamburger Cioè praticamente Mi sono mangiato Una pacca su lì Povero animale Sarò con te E tu non devi mollare Abbiamo un sogno Nel cuore Dai un morso A questo panino Ladies and gentlemen The thing Of Porco Is Tony Tubo Ah Ma c'è un neffleb Però Maronna Mamma Tanto che Giriamo l'ultimo pacchetto Su FIFA E quindi Questo pacco Nel più disponibile Speriamo per sempre Ah Bene ragazzi Quindi questo era tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Scrivetemelo in un commento Suggeritemi Nuove sfide Da fare Su FIFA Vabbè Avete capito Quindi Adesso è tutto Vi mando un abbraccio Un salutone Se non ti iscritti ancora Iscriviti al canale Ci vediamo al prossimo video L'ho detto già Non lo so Non riesco a chiudere Perché Famola la capo Famola la panza Famola tutte cose Bella Tori Tubo Legna